Veniva stoccata nei magazzini di Gerenzano la droga importata in grande quantità dalla criminalità organizzata e smerciata sulle piazze di Milanese, Napoletano, Capitolino e Calabria. E' quanto emerge dalla maxi operazione condotta in tutto il paese dalla Guardia di Finanza di Milano su indagini della direzione antimafia di Milano, Genova e Reggio Calabria. Esito più di 100 indagati, 38 persone in carcere, 2 obblighi di firma. Parliamo di enormi quantità di sostanza, 645 kg di cocaina, 240 di hashish, 30 di chetamina, trasportati in prevalenza su grossi camion dall'Olanda all'Italia. Punto di riferimento del traffico, la famiglia africota dei Bruzzaniti, ben radicata in quel di Milano, titolare della distribuzione per l'Andrangheta Lombarde, alleata di Raffaele Imperiale e Bruno Carbone, definiti dalle fiamme gialle broker a livello mondiale dell'importazione di droga. Un'organizzazione ben strutturata e articolata, quella svelata dagli inquirenti. Microcosmo Logistico, Quarto Oggiaro, una delle piazze di spaccio più rilevanti. Qui, per conto dei promotori, agivano i luogotenenti, che si occupavano di ritiro e stoccaggio, affidando alle cosiddette mamme il compito di tagliare lo stupefacente, confezionarlo e consegnarlo ai cavalli, cioè agli spacciatori. Sono complessivamente 75 i capi di imputazione, ma le indagini proseguono a pieno ritmo.